Niente diceva continuamente Rieccoci, rieccoci in studio Allora, cominciamo subito con il giocino tecnico Presento i bambini Poi Alessandro ci presenta il gioco Oggi come ospite Sarai tu Torni nella tua veste di presentatore Non di portiere, capito? Va bene, esatto Allora, Emiliano Io sono Emiliano Tu sei? Matteo, Alessandro Alessandro No, un Emiliano, due Alessandro e un Matteo E c'è un Alessandro che ha una cosittina carina Da regalarmi, vero? Cos'è? Io adesso ve la faccio vedere Amore, tienimi il microfono Allora, ovviamente c'è il gagliardetto del San Lorenzo Eccolo qua Storica squadra Ho chiesto l'origine Facciamogli un applauso Allora, ho chiesto l'origine Sapete perché si chiama San Lorenzo voi? Che lavorate nel San Lorenzo? Perché si chiama San Lorenzo e sta sulla Prenestina? Tu lo sai? Forse era nato San Lorenzo Forse Perché non c'era spazio Ha detto lui Eccola qua La sciarpa bellissima Questa la metto sicuramente Eccola qua San Lorenzo Allora Giochino Alessandro Però la domanda è giusta, la mia Io poi chiederò informazioni ai dirigenti del Cinecittà Bettini Vai Alessandro Allora, se la memoria non mi inganna Squadra A contro squadra B Mentre io contro i palleggi da parte della squadra A La squadra B effettuerà nel minore tempo possibile questo slalom Mandata in ritorno E viceversa E poi sia i palleggi che il tempo Il tempo lo dallo loro Ok Hai spiegato non tanto bene perché mi hai chiesto spiegazione a me che è tutto dire Mi sono invecchiato Scusate Allora, Emiliano vai Via Palleggi, parti Vai, vai, parti C'è anche la musica, abbiamo, eh Vai Vai, parte il secondo giocatore C'è chi è? Fate il prima possibile Se no lui fa tanti più palleggi di voi Esatto Siamo a metà percorso Terzo giocatore Alessandro Vediamo anche la tecnica interno e esterno Il mister Muforini poi ci dirà Abbiamo la domanda anche per lui, eh Sì E mi che pensai alla fine da qua Ecco, l'ultimo giro, via L'ultimo Alessandro Vai Alessandro, vai Alessandro, eh Mi confondo oggi Molto bene, via All'altra parte abbiamo Etienne che sta palleggiando, eh Stop Stop Quanti, Ale? 73 Ma no Record Eh, bravo Vieni qua Vieni qua Vieni, vieni Grande record Vieni Fate un bacio Vieni qua Ecco Ecco, il nuovo record Bravo Bravissimo Come ti chiami? Etienne Etienne Eh, credo si debba sedere, credo, vero? Giusto Allora, tornate ai vostri posti Di qua Chi sono i ragazzi di qua che devono palleggiare? Forza Chi è che deve fare lo slalom? Chi deve fare lo slalom? No, lei la voglio Voglio una ragazza Lei la voglio Uno, due, tre e quattro Perfetto E chi palleggia? Eh sì, amore, aspetta Chi palleggia di là? Vieni Chi è che palleggia di là? Marco? Vuole palleggiare Matteo Chi vuole palleggiare? Tu? Ah, ok Allora Una palleggiare e mi serve un altro ragazzino qua Vieni No, no, il palleggiatore deve essere dell'altra squadra Deve essere Tutto con questa No, deve essere di qua l'altra squadra Caos completo Chi palleggia di qua? Pronti? Perfetto Ci siamo? Ci siamo che il notaglio non può aspettare Il notaglio si arrabbia Non vi regala i palloni a fine trasmissione Pronti? Partenza? Vai E già il primo è partito Oh Via Attenzione Sistemo io Occhio alle penalità Occhio a non far cadere i brilli Detti anche conetti Bravissimo Poi gli diamo i nomi a loro Che rini Vai, vai, vai Meno uno Vai Ed è la bimba Ma bellissima Vai Claudia La più brava Mamma che brava Bravissima Grande applauso a Claudia Brava Stop Brava Brava Claudia Allora 31 31 Ok, però non ho chiesto i nomi a loro Scusa Claudia Claudia Sei stata la più brava Ma dai tu È una femmina Gli dobbiamo fare i complimenti Non sofferte Matteo Matteo Emanuele Emanuele Luca E Luca Vai, sedetevi ragazzi Brava Claudia La più brava Allora Vai Il mio ballettino La classifica come stiamo? E quindi abbiamo Etienne che è passato in vetta E tra l'altro è giusto perché lui segue Teleroma 56 Perché come è entrato in studio ha detto Oh ma qui dove c'è quello con i capelli lunghi Non fare gesti Non fare gesti Quello con i capelli lunghi ha detto ha riconosciuto gli studi Esatto Quindi Etienne è grande Merita il record Non fare gesti Non fare gesti Allora io volevo riconsegnare a Marco il tuo microfono Ok Allora quindi L'altro bambino quanto ha fatto? 30? 30 Va bene, va benissimo È importante poi partecipare sempre Quando noi diciamo nel gioco del calcio Bisogna giocare Devono giocare tutti Non è importante vincere assolutamente Ma è importante giocare e fare sport Basta Giusto? Giustissimo Allora Romano Franceschetti Stavamo parlando di Casal del Marmo Accanto a te c'era un personaggio più importante di te Posso dirlo? Molto più importante Il dottore Umberto Forte Che si presenta velocemente E ci dice quello che fa la rete Sì perché poi abbiamo anche un altro gioco Come ha già anticipato il collega Noi siamo a Casal del Marmo Come ASL Romae Dal 2008 Perché sinteticamente cosa ci è successo nel 2008 Nel 2008 L'assistenza sanitaria che prima era garantita Al Ministero di Giustizia È stata transitata al Servizio Sanitario Nazionale Regione e quindi alle ASL Quindi ciascuna ASL Registisce E ciascuna ASL A 360 gradi Deve garantire la tutela della salute Dei detenuti Come per i libri cittadini Quindi in risposta a un dettato costituzionale Però questa cosa Diciamo così È avvenuta solamente da cinque anni a questa parte E per la Regione Lazio Questo è coinciso con il primo di ottobre del 2008 Dal primo ottobre del 2008 Io lo dico con un doppio senso Siamo in carcere Perfetto L'hanno fatto uscire a lei? Possiamo uscire Devo dire che siamo Ecco Nel nostro territorio c'è questo carcere di Saldermarmi Che lei conosce Che io conosco molto bene Che può ospitare fino a 75 Noi abbiamo avuto delle punte anche fino a 75 Siamo molto contenti quando ce ne sono pochi Detenuti Mediamente siamo sui Certamente 60 detenuti Esatto Detenuti di chi parliamo? Parliamo di ragazzi Ragazzi Da 14 anni Ai 18 E fino ai 21 Fino ai 21 Quando diciamo hanno commesso Hanno avuto poi una condanna Prima dei 18 Si cerca di evitare L'accesso al carcere per adulti Per ovvi motivi Assolutamente 21 anni è ancora un bambino Un ragazzo Certamente Questa è la cosa Come ASL Debo dire Siamo stati come operatori Dell'ASL Romae Dire molto Sempre appoggiati Dalle nostre direzioni È stato In quanto proprio come Un progetto particolare Vista la delicatezza E l'attenzione dimostrata Dai nostri direttori Non ci hanno fatto mai mancare Le risorse E appoggiate Le nostre iniziative Abbiamo medici Tutti i giorni Si lavora per equip Medici Infermieri Che garantiscono Assistenza 7 giorni su 7 12 ore Equip di psicologi 3 psicologi Tutti i giorni Specialisti Dei servizi Dei servizi Del CERT Per le tossicodipendenze E una serie di specialisti Che noi chiamiamo Quando non possiamo risolvere Problematiche di salute Al momento All'interno Questo Qual è la parte Della progettualità Sull'attività sportiva È fondamentale Vorrei aggiungere una cosa È un linguaggio È il linguaggio Con cui noi Riusciamo A coinvolgere I ragazzi Sono ragazzi Che vengono Risaputo Da Nord Africa Paesi dell'Est Italiani Sono anche italiani Purtroppo Anche in aumento E quindi c'è un problema Culturale Di comunicazione Il gioco E in particolare Sul gioco del calcio Ci si comprende Loro comprendono Le regole Quelle regole Che hanno evidentemente Non rispettato Per essere state Condannate Quando giocano a pallone Le rispettano E questo è proprio Un momento educativo Molto forte E questo è molto particolare Perché insegna loro Delle regole Sono strutture I figici Che sono entrate Nel carcere È un momento Proprio Un linguaggio In cui ci si capisce Una grammatica Alla portata di tutti Esatto Anche senza linguaggio Anche senza parlare Questo è vero La ringrazio Dottore In prima persona Sto vivendo Questa esperienza Bellissima Fantastica Di grande crescita Di professionalità Per me Quindi ringrazio La federazione Gioco calcio Che mi permette Di entrare Di lavorare Di girare Questo documentario Lo posso dire Sto girando Il documentario All'interno E questo è stato Un progetto Che ci è stato Riconosciuto Come eccellenza A livello nazionale Che ci ha portato A sperimentarlo E lo stiamo Riproponendo Negli anni Esatto Facciamo un applauso Alla federazione Gioco calcio Siamo bravi Siamo bravi Vero Romano Ecco Allora Terzo giochino Abbiamo un altro gioco Ragazzi Perché a noi ci piace giocare A noi con i bambini Perché Giusto? Anche con voi È il gioco mimando Come l'abbiamo chiamato? Calcio mimando Calcio mimando Ascoltate C'è un gioco nuovo Veloce Sarebbe il gioco dei mimi Oggi è la prima volta Che lo facciamo Quindi quello che viene Viene Ci fate un po' da cavi Evo di San Lorenzo Allora un bambino Che deve mimare Una frase A tema calcistico E compagni di squadra Dovranno indovinarla Come il gioco dei mimi Però dobbiamo dare un tempo Facciamo una cosa seria Dobbiamo dare un tempo E dobbiamo dire soprattutto la frase Eh la devo dire Il bambino che mima Deve andare da Giussi E gli dirà all'orecchio La frase Chi è che mima? Di voi? Vai Etienne Vieni tu dai Etienne Grande Dai è vero è vero Vieni tu Ti ha anche fatto il record Eh bravo Allora tu devi mimare a loro Non so come siamo messi con le telecamere Però penso così in questo modo Allora questa è la frase Ok Allora tu la sai fare? Sì sì Ok Tu devi ovviamente dirgli quante parole sono Uno Ok Allora vediamo un po' se indovinano Vai Non devi parlare Etienne Eh? Eh? Di qua? Vieni qua Davanti a Alessandro Vieni qua Davanti a Alessandro È la prima volta che lo facciamo La prossima volta saremo Faccio l'idea Sì ma loro devono indovinare tutta la frase amore Ok? Guardatelo Arrivai Sono tre parole Allora è un gesto tecnico È un gesto tecnico Cosa può essere? Calcio di rigore Esatto Adesso devono indovinare chi lo batte Chi lo batte Vediamo come fai Ci potreste arrivare Bravo Quindi la frase è? La frase completa sarà? La frase è il fatto di rigore Esatto Bravi bravi Ah funziona il gioco Funziona Funziona Carino Eh Bravo Etienne Vedi come Sono stati aiutati Allora Ok Come sanno più di noi Hanno mimato proprio il calcio di rigore I microfoni Giustamente Valerio mi dice Il microfono Se no non vi sentono a casa Eh esatto E Balotelli Tira un calcio di rigore Bravo Bravo Addirittura sanno la tecnica di Balotelli Che si ferma un attimo Quindi noi ci siamo messi troppo i problemi Ah così Io mi ero fatta il problema Ma come indovineranno Balotelli Dicevo Ha fatto proprio Balotelli che calcio il rigore Che scema che sono Che donna Allora Via L'altra squadra Come ci opponiamo Chi è che fa la mimo? Lui Emiliano Emiliano fa il mimo Questa è la frase Ce la fai? Vai Come davanti a loro Sempre davanti a me Ecco Verso loro Vai E' bello Però l'ha fatto bene E' così Dai vai Aiutiamolo un po' Ci arrivate Però l'ha fatto bene Bravissimo Sostituzione del portiere Bravo 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 E' così bravi La prova è andata bene E proseguiremo con le prossime puntate Mi piace il gioco? E' carino? Eh? Lanciamo questo calcio mimando La prossima volta lo fai tu allora E' carino Come facevamo noi nei cortini il gioco dei mim Come ti pare Alessandro? Com'è il gioco? E' carino no? Fantastico Parlo un po' di regole Un po' di cose Anche un po' per Insomma In maniera Esatto Gioviale Serena Esatto Si stanno divertendo Allora Io per Volevo mandare le immagini Della Res Roma Che Sembra che Abbia perso 3 a 0 Ma come si fa a perdere 3 a 0? A meno che non me lo so sognato No guarda Io pensavo che avevate vinto Ho letto 3 a 0 Res Roma a Brescia Invece era al contrario Hai letto al contrario Comunque Quando perdi certe partite C'è da dire chapeau agli avversari L'ho già detto prima Mi ripeto Il Brescia è secondo in classifica Un punto dalla Torres Sabato tra l'altro C'è lo scontro diretto Torres-Brescia Torres prima vero? Sì Torres prima con 40 punti Segue il Brescia a 39 Noi siamo andati lì Ad affrontare una grande squadra Una grande squadra Che ci ha messo in difficoltà Dal primo minuto Ci ha salvato il nostro grande portiere Pipitone Da una goleada Loro hanno tenuto in mano Il pallino del gioco Dall'inizio Qui abbiamo appena visto Una grande parata Del nostro portiere E tra l'altro Hanno dato calcio spettacolo Perché hanno Si sono presentati in campo Con un 4-2-4 La Torres Roma Ha tenuto fino al 38esimo minuto Questo è il primo gol C'è Alborghetti Che fa la sponda E Sabatino La mette dentro Nulla da dire Nulla da dire sul strapotere Prima della fine del primo tempo C'è un palo Ancora un palo Per il Brescia Che ha dominato Ripeto Tutta la gara Nella ripresa Siamo partiti bene Per almeno mezz'ora Abbiamo tenuto il campo Però l'ultimo quarto d'ora È stato fatale L'ingresso di Rosucci Che mancava da diverse partite Ha dato Il definitivo slancio Alle Dondinelle Che proprio con Rosucci Hanno raddoppiato Poi sul finale di gara Due minuti dopo In realtà Girelli Ha approfittato un po' Di una dormita Della difesa giallorossa E ha siglato il 3-0 Ha dormito tutto il tempo però No In realtà abbiamo Ti ripeto Il Brescia è una grande squadra Ha giocato una grande partita Noi cercheremo di rifarci Da sabato prossimo Adesso abbiamo due partite in casa Contro Como e Valpolicella Siamo a metà classifica Lo ricordo Siamo una neopromossa Assolutamente Si può soffendere lui Stiamo facendo un grande campionato Per quelle che erano le previsioni Ma lo sappiamo Anche perché il bacino Il budget del Brescia È un po' come Paragonare quello della Juventus Ma è la Brescia Calcio Proprio Brescia Diciamo che collaborano Non è la stessa cosa È una collaborazione Come altre collaborazioni Ce l'hanno il Verona Il Valpolicella Con le due scuole di Verona C'era il Perugia E diverse scuole ce le hanno Il Perugia sono due società separate Sono sempre due società separate In ogni caso Però hanno una collaborazione Che poi da squadra a squadra Cambia Noi attendiamo con ansia Che anche la Roma maschile Inizi qualche collaborazione con noi Vabbè Basta parlargli magari Non ascoltano Sai che ovviamente è partita La famosa raccolta delle figurine Primo pacchetto aperto da mio figlio Prima figurina La Res Roma Ma dai Incredibile Sono le figurine state Sono famosi allora Tu non lo sai Sono famosi Tu non lo sai Non lo sapevo io Aia Aia E va bene Non me l'avete detto Tu dovresti saperle Deve essere giornata C'è anche il calcio femminile Da un po' di anni Sulle figurine Quest'anno stiamo in serie A Quindi ci siamo Ma è beccato Mannaggia L'ho preparata Aspetta Mi dicevi Microfono Prego dimmi Dimmi Che volevi Sì Nell'ultima pagina Dell'album Panini Ci sono tutte le foto di squadra Del calcio femminile C'è anche la Res Roma Perché è l'unica squadra Della regione A stare in serie A Ma tutta la serie A C'è tutta la serie A Femminile E la B non c'è No la B non c'è Se non sarebbero Accontentiamoci per il momento Che volevi? Prego Non esiste la serie B? Sì esiste Esiste Che dici? Scusa No tra l'altro Ho capito che lui Scusami Ne approfitto per una cosa Ho capito che lui Non ha mai seguito il calcio femminile Perché quando ha visto Marco farlo stare zitto Perché quando ha visto Palleggiare Ha visto Claudia Che faceva lo slalom Ha detto Una bambina è più brava dei bambini È normalità Le bambine soprattutto Soprattutto a quell'età Soprattutto a quell'età Le ragazze sono più brave Dei ragazzi Esattamente Voi ne sapete qualcosa Perché voi avete anche Una giocatrice di qua No? Noi tra l'altro Infatti dall'altro lato No non calci Non calci Non palleggia Abbiamo di qua Carolina Carolina Ti ho fatto una sorpresa Forse non lo sai tu Non ho il pallone Mi serve il microfono A Carolina C'è una sorpresa Per l'ardita In regia Vero? C'è? No? C'è? Sì? Che c'è? Una cosa veloce Perché io vi voglio bene Io Lei non lo sa Ma io vi voglio bene Le ragazze di l'ardita Eh? Lo sapete C'è Marco? Anno nuovo Stesse passioni L'ardita San Paolo Torna in campo Dopo la sosta natalizia Per la prima partita Del 2014 Real Porta di Roma Ardita San Paolo Domenica 12 gennaio Alle 14.30 Presso l'Academy Sport Center Di via di Sette Bagni 340 Ardita San Paolo Del calcio popolare Il fiero baluardo Sì Eccoci in studio Hai visto che sorpresa che ti ho fatto Tu non te l'aspettavi L'ho fatto fare ieri sera Mezzanotte Non sapevo che fare Favamo scaricare questa cosa qua Allora Come state messi voi? Allora Loro è una squadra Ve lo dico Lo dico ai nostri nuovi ospiti Di azionariato popolare Esattamente Non lo rispiegava Che lo sappiamo No non lo rispiegiamo Facciamo azionariato popolare Si pagano da soli Esatto E abbiamo cambiato allenatore Questa cosa Ah Come mai? Perché Perdevate sempre Cioè diciamo che i risultati Il colpo è sempre di allenatore Scusa Al di sotto delle aspettative Si era? Ma era anche l'auto in studio Eh lo so Vabbè Ti riaffezionato però Non ci sono gli allenatori Che vengono qui da me Eh quindi abbiamo cambiato allenatore Adesso Con il nuovo anno Ripartiamo Chi era il nuovo? Si chiama Davide Lupo E ha già esperienze Comunque ovviamente Parliamo sempre Ovviamente di settore Direttantistico Ovviamente ha esperienze Con categorie superiori alla nostra E quindi speriamo che Insomma La prossima La prossima è domenica Eh C'è lui in panchina Esatto Sì C'è lui in panchina E quindi speriamo che comunque E come l'ha presa l'altro? Scusate Non tanto bene Perché non si può licenziare un allenatore così Scusate Come l'ha presa l'altro? Non tanto bene Molto bene? Non tanto bene Però che bisogna fare? Non avete vinto una partita? Non avete vinto qualcosa No no Sì è chiaro Non è che abbiamo perso tutte le partite Però ovviamente rispetto a Quelle che erano le aspettative All'inizio del campionato Insomma Diciamo che i risultati che abbiamo ottenuto Erano abbastanza al di sotto E ovviamente lui è Essendo la prima esperienza Probabilmente ha scontato questo Lo salutiamo Certo salutiamo Shaza Lo ringraziamo ovviamente di tutto Ringrazialo Sì Ringraziato Il nome Il nome Shaza Battelli lo ringraziamo Esatto Anche noi lo ringraziamo Lo vogliamo bene Scusate Una curiosità statistica Prego Lei attualmente sta giocando Nella seconda squadra della Res Che aveva sempre vinto tutte le partite Al debutto di Carolina Non è più arrivata la vittoria Non è stata colpa mia Non è vero Non lo voglio arrabbiare Abbiamo pareggiato Ha debuttato a Latina Ed è stato l'unico A giocazione Lui è gentilissimo con me Io vorrei Lo svincolo adesso Si può a federazione Si può adesso Ci penso io Povera Carolina Non è vero Non è vero Non è vero Flavio Allora Vai Non avete giocato Io non gioco con lei No L'hai chiamata in squadra? Eh? L'hai chiamata in squadra? Non vuole Perché dicono che Ovviamente Ma non è vero Ma non sta ad ascoltare Artemio È invidioso lui Ti vorrebbe come fidanzata Ovvio Tanto sono felice Di aver ritrovato Artemio e Alessandro Ah bene E purtroppo Alessandro Viene oggi Purtroppo Purtroppo sì Poi dovrà tra i pali Della Viterbese Quindi non tornerà più Attento Dicevi scusa E avanti Eh no Tu mi hai detto Flavio E certo Flavio Ci vuoi raccontare cosa è successo? Avete giocato? Avete perso? Eh sì Loro gestiscono tornei scolastici Questi ragazzi Universitari Universitari Scolastici Scusa Mi corregge E diciamo che il campionato Adesso sta prendendo Una bella piega Perché ci sono già C'è delle squadre Che cominciano a far vedere La propria qualità Soprattutto in Noi League Un campionato universitario In cui alla vetta Ci sono adesso tre squadre Quali sono? A C9 Che ci piacciono i nomi Sparta Praga Che deve recuperare una partita As Sensio In cui gioco anche io Ah? As Sensio Bevono Bevono Cioè i ragazzi bevono Poi? Era un nome simpatico E l'altro? Ce n'è una che è bellissima Quella di Colli Albani Come si chiama? No Realcolizzati sono gli ultimi Realcolizzati Infatti gioca Marco Sono geniali questi ragazzi Io ho chiesto Poi ci trovi a fare Andrì la campagna contro Infatti io ho chiesto Lo svincolo quest'anno Dai Realcolizzati E sono passato All'As Sensio Tanto per non smentirmi E primi anche I Tenants Team Che ieri hanno vinto Sono una bella squadra Tenants Vabbè non facciamo pubblicità Però ovviamente Bevono questi Sì Insomma Sempre legato Ma molto insomma Goliardica la cosa Certo Però ecco Stanno tenendo Il livello Si è alzato quest'anno Infatti Dell'alcol Molte ex giocatori Sì Anche quello Il gomito Il gomito Non l'ho detto Non l'ho detto apposta Esatto Scusa Flavio Il tasso tecnico Si è alzato Esatto Notevolmente Specifica Esatto E adesso dobbiamo anche Programmare il calcio 5 Proprio per collegarmi Con il discorso di prima Partire il calcio 5 Universitario Intorno a marzo Insomma faremo il primaverile E anche Le vincitrici La prima E la vincitrice Del campionato Di calcio 5 E della coppa Di calcio 5 Andranno a fare le finale A Milano In cui contreranno Appunto tutte Le altre squadre Nazionali Ricordiamo che Unilighe è presente In 16 città In Italia Esatto E soprattutto Nell'ultimo anno Abbiamo avuto Un incremento Di adesioni Non studiano Però giocano a pallone E bevono pure Un disastro Un messaggio Perfetto Quanti fai Flavio? Anzi però Dottori Che dite voi? Va bene Ci sono stati perfetti Scusa Flavio Continua In realtà Real colli Sarebbe Colli albani Colli albani Colli zati Marco il microfono Lascia la parola a Marco Dicevi Marco? Quest'anno Dico per rimanere in tasso Un tema del tasso Del tasso Che è stato alzato Abbiamo levato La seconda L Andranno perso Dersi i giocatori Di colli albani Ma appunto Flavio E è rimasto solo Real colli zati La seconda L Che sarebbe un liceo? No real colli Ah ce ne so Mi stanno confondendo Colli albani Adesso è rimasto solo Real colli zati Per non smentirsi Allora abbiamo capito Ho capito anche Delle messaggine Che mandate su facebook Quindi che bevete Inviti a drink party Cioè tutte le sere Ma ne arriva uno Non esageriamo Vincono anche però Eh che dici? Mettiamo in giro Strani voi No vabbè Ma scherziamo Qui si scherza Qui si scherza Una mamma Passa il microfono Alla mammina Che sennò poi dice Non parlano i genitori Dice questa C'era sempre con i genitori Clara? Sì Clara Mongelli Mongelli Allora tu sei la mamma di chi? Di Emanuele Di Emanuele Allora Riccolino Raccontaci un po' velocemente La tua esperienza di mamma Di un bambino che gioca a pallone E che non si aggrappa alle grate Vero? Faccio molto tempo Si aggrappa alle grate lei? No Miss Marco si aggrappa alle grate? Come insomma? Cioè lo Ti aggraffia alle grate? Clara? No no Mi piace Non solo lei Mi piace seguire i bambini Sì sì Sono sempre presente Ti arrabbi quando perde tuo figlio? Dimmi la verità Perché? Perché sì Ma perché? Porello scusa Perché ti arrabbi? Un pochino sì Eh? Non lo fai scenare la sera? Che fai? No no non è vero Lo calcio in casa Che fai? Che succede quando un bambino perde? Sarà che io almeno Non mi arrabbio con lui Mi arrabbio io Arrabbi tu con te stessa? Volevi entrare in campo tu? Magari Marco che fanno questi genitori? Guarda un po' Passa il microfono a Marco Clara C'è qualche genitore Che effettivamente vorrebbe Entrare in campo Più di una volta Ma mio figlio Certo L'ultima partita che abbiamo fatto C'era un genitore Che si era ampicato Vuoi fare nome e cognome? No no Si era ampicato sopra La rete Quando il figlio ha fatto un gol Sì Vabbè magari quello Ma invece quando giocano male Non mi dire che non lo fanno Perché non ci credo No no Che fanno? Clara lo fa? Quando giocano male Vabbè ma poi La partita dopo È come se non fosse successo nulla Eh certo Non è successo comunque nulla Sì no Però magari Lì per lì Sono quasi più i genitori Che i figli Che ci rimangono male Eh secondo te Perché sono più i genitori? Vediamo un po' Analizziamo questa cosa Io non ho figli Quindi non lo so Eh vabbè Però da allenatore Dovresti un po' immaginartelo No? Perché un genitore Ci resta male? Perché? Vorrebbe Alcuni genitori Perché vorrebbero Che i figli Raggiungessero Il livello Che loro non hanno raggiunto Da giovani Lo diciamo la tutta Diciamo la no La realtà è questa Quando il bambino perde La cosa strana è Nelle mamme Perché Sono peggio dei padri O tutte erano ex giocatrici Oppure Non si spiega Sono peggio dei padri? Sì Alcuni sì Alcuni sì 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 È vero Sì Anche perché alcuni Padri Sono più tranquilli Eh e le mamme invece Vanno gruppetto Come fuori scuola Che stanno lì Sì sì Sono sicura che funziona così Clara Dammi che me lo fanno a Clara Tu sei una di queste Mi sa vero? No 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 però mi piace molto il calcio L'ho fatto anche da ragazza Ah hai giocato? Sì ho giocato a calcio Ma raccontaci un po' Doi spenze di calciata Ma qui ce n'abbiamo un'altra Brava Scusa Ho giocato con il Casale Rocchi Ress Ecco vedi che ti trovo anche le giocatrici Io qua Dicevi scusa? Ho giocato con il Casale Rocchi Per quattro anni Ah Ha giocato la signora Quattro anni? Sì E che ruolo avevi? Centrocampista Ecco perché ti arrabbi con il tuo figlio Che fa centrocampista Giusto? Ah vabbè magari Diciamo che è giustificata un minuto C'è giustificata dai No Non c'è giustificata Per niente guarda Anzi Proprio perché hai giocato Non dovresti farlo Lo so lo so Vai Tornando al discorso dei genitori Secondo me c'è una frase Veramente triste e infelice Che gira nel mondo del calcio Quando Anche i grandi allenatori Ho sentito dire Vorremmo tutti Le euro giovanine Una squadra Con undici giocatori orfani Questa per me è una frase Che brutta cosa questa cosa La dicono in tanti Potevi anche non dirla È scritta addirittura In alcuni libri E io la detesto Perché è un'incapacità Di saper gestire Un rapporto fondamentale Che è quello importantissimo A livello giovanile Di avere il rapporto Con i genitori Invece molte società Si trincerano dietro queste frasi Infelici E non Addirittura Non accettano i genitori Dentro il campo A vedere gli allenamenti È una cosa gravissima Mi dicono che devo chiudere Questa frase infelice Che tu hai detto Che non l'ho detto io però No 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 Certo Squadre di orfani Non sarebbe proprio caldo Io ringrazio tutti i miei ospiti A partire dai dottori Non vi rinomino tutto Perché oggi siete tantissimi Sergio, Marco Tanto ci sentiamo Ci rivediamo sicuramente Flavio, Carolina, Marco Marco Alessandro Grazie Grazie a tutti Sarai il nostro ospite Molto spesso Però come dire Saluto in particolar modo lui Perché mi ha detto Che oggi Ha venuto oggi Ma non torna più Perché non può tornare Perché non glielo permette La Viterbese Deve giocare a pallone Oggi è stata una casualità Perché abbiamo giocato ieri In Coppa Italia Oggi ci ha dato il giorno libero Perfetto Quindi in bocca al lupo Stiamo qui Un bacio Quando vuoi La nostra piazza è qui Noi ci vediamo Giovedì prossimo Sempre alle 21 In replica Sabato alle 18.30 Ovviamente Sul Teleroma 56 Grazie al San Lorenzo Cenecittà Bettini Un applauso ragazzi Grazie a tutti Non farti segnare dall'alcol Mai 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 Non farti segnare dall'alcol Non farti segnare dall'alcol